Come abbiamo visto anche ieri nella giornata introduttiva, una delle domande che ci poniamo più spesso è in che modo dobbiamo adattare il modo in cui gestiamo i corsi d'acqua in risposta agli effetti dei cambiamenti climatici. Allora mi fa molto piacere dare il benvenuto a Luca Mercalli, sono molto contento che abbia voluto essere qua con noi oggi, che ci darà un po' di spunti per capire quali domande possiamo farci. Benvenuto Luca. Quali domande dobbiamo farci e magari qualche suggerimento su qualche possibile risposta. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto sono piacevolmente sorpreso dalla relazione precedente perché ci fa vedere quanto sia importante adattare anche non solo noi alla dinamica dei fiumi ma la nostra dinamica all'ambiente che muta, alle nuove conoscenze scientifiche e non c'è nulla di male nel correggere gli errori. Cambiano i tempi, sono passati quasi 50 anni da quelle scelte precedenti delle briglie, cambiano le conoscenze, cambiano le pressioni ambientali e quindi ammettere i propri errori ma non sono degli errori, sono delle sperimentazioni, sono delle evoluzioni. Penso che faccia veramente caso studio e quindi un applauso alla provincia di Bolzano perché ci permette di spendere questa esperienza nei confronti di chi ragiona oggi ancora con la testa di 50 anni fa e vorrebbe fare le briglie oggi e questo è il punto importante. Allora ovviamente non possiamo non parlare di clima quando affrontiamo il tema corsi d'acqua e il clima negli ultimi anni ce ne ha fatte vedere delle belle, ovviamente il problema del cambiamento climatico non è il solo e vorrei semplicemente mettervelo in prospettiva con l'intera grande e problematica della sostenibilità ambientale, se guardiamo il grafico dell'impronta ecologica globale che mette insieme quindi il clima ma anche l'inquinamento nelle sue diverse nature, le pressioni legate per esempio alla deforestazione, all'eccessivo prelievo di acqua dolce per uso agricolo, per uso industriale, per uso idropotabile, insomma tutti quelli che sono i driver importanti dell'attività umana nei confronti dell'ambiente, vediamo che proprio attorno agli anni 70 abbiamo superato la capacità di carico del pianeta e siamo andati purtroppo crescendo continuamente nelle nostre esigenze, nell'aumento della popolazione mondiale che oggi ha raggiunto i 7,6 miliardi di abitanti e continua ad aumentare ogni giorno di 200 mila unità e quindi oggi un'altra padova si è aggiunta sulla cartina del mondo, è chiaro che tutto questo spinge i consumi di risorse e la produzione di rifiuti a livelli mai visti prima nella storia del pianeta al punto che oggi utilizziamo 1,7 pianeti Terra, questo è ovviamente insostenibile sul lungo periodo se continuiamo su questa strada, arriveremo al 2050 con l'esigenza di circa tre pianeti vuol dire intaccare il capitale naturale al punto da provocare il collasso del sistema ecologico e ovviamente della nostra specie che ci vive basandoci sopra, quindi dobbiamo urgentemente rientrare all'interno dei limiti dell'unico pianeta di cui disponiamo, ma non sembra che questa idea stia passando, anzi sempre più insistentemente i nostri giornali, le televisioni urlano che è più importante un punto di pil che un grado di temperatura, mentre la scienza dall'altra parte sempre più insistentemente incalza con articoli scientifici che alzano la soglia di allarme, questi due mondi non riescono a parlarsi e quindi la scienza produce sapere che sta nei cassetti, l'economia e la politica sono lanciati per ora sulla linea dei tre pianeti con il conseguente scontro che avremo contro i limiti ambientali, che poi alla fine sono i veri governanti della nostra vita. Questi sono peraltro i limiti ambientali stabiliti dal famoso lavoro di Rockström e collaboratori già nel 2009 su Nature, continuiamo ad avere evidenze che questi limiti vengono superati, ma ormai a quasi dieci anni dalla pubblicazione praticamente nessuno se n'è ancora accorto. E in questi nove limiti planetari c'è ovviamente il cambiamento climatico, lo vediamo qui, c'è l'acidificazione degli oceani, quindi sempre a che fare con l'acqua, c'è l'eccessivo uso di acqua dolce, eccolo qui, potremmo dire che con i fiumi rientriamo in molti di questi temi, rientriamo nel tema cambiamento climatico dove siamo già fuori dai limiti di sicurezza, rientriamo all'interno dell'eccessivo pressione sulle risorse d'acqua dolce, rientriamo all'interno del tema cambiamento nell'uso dei suoli e ovviamente quando parliamo di strutturazione di un bacino fluviale c'è un importante impatto, rientriamo anche nel tema della perdita di biodiversità e fare qualcosa per ripristinare zone ad alto valore di biodiversità nelle zone fluviali è fondamentale e rientriamo ancora nei temi degli inquinamenti soprattutto questa chemical pollution di cui spesso i fiumi sono portatori anche in zone lontane oppure se non pollution di tipo invisibile come soluti pensiamo alla plastica, alla gigantesca quantità di plastica presenti negli oceani del mondo che è veicolata prevalentemente dai grandi fiumi che la trasportano dalle zone continentali al mare. Di tutto questo abbiamo anche una visione sociale con il lavoro della Kate Raworth, un economista ambientale che recentemente ha ideato l'economia della ciambella, cioè quella struttura che mette insieme all'esterno i limiti ambientali fisici già definiti da Rockstrom e colleghi, eccoli qui, ma definisce anche una zona di sicurezza per il livello di utilizzo da parte dell'uomo, cioè non vogliamo ovviamente proteggere la natura in senso assoluto privandoci completamente delle risorse destinate a un dignitoso livello di vita umano e quindi c'è da definire un'area che è questa ciambella. La ciambella di sostenibilità che garantisce sia il rispetto dei limiti fisici sia il rispetto dei limiti sociali è molto stretta e direi che si va stringendo giorno dopo giorno. Lo spazio sicuro e giusto per l'umanità è questo e dobbiamo essere molto abili a non perdere troppo del nostro benessere cercando di distribuirlo anche in maniera equa a tutti gli abitanti del pianeta, ma non uscire dai limiti ambientali, pena le conseguenze gravi che avremo in futuro. Andrea, tieni tu il conto dei miei minuti, così io vado avanti. Il progetto EPICA è una delle tappe fondamentali per capire che cosa è cambiato nel sistema climatico globale nel suo fattore forzante più importante, cioè la concentrazione di CO2 nell'atmosfera terrestre. Grazie alla perforazione della calotta glaciale antartica che è spessa più di tre chilometri, ricerca italiana e francese, questo è un progetto italo-francese alla base Concordia, uno dei luoghi più severi del pianeta, temperatura media 50 gradi sotto zero, minimi che arrivano a 90 gradi sotto zero, qui si è lavorato per oltre un decennio per estrarre una lunga carota di 3 chilometri e 270 metri che arriva fino a 800 mila anni fa. Il risponso della concentrazione di CO2 all'interno di questa carota è veramente sorprendente perché al di là delle fluttuazioni naturali dovute ai cicli di Milankovic e quindi al range naturale di variazione della CO2 che va da circa 180 parti per milione durante le glaciazioni a un massimo di 300 parti per milione circa 350 mila anni fa, vedete che noi oggi siamo ormai sopra le 400-410 parti per milione, il che è veramente un dato inedito a livello della storia dell'intera specie umana poiché Homo sapiens occupa nella sua evoluzione soltanto gli ultimi 200 mila anni, quindi noi non abbiamo mai visto un pianeta con una concentrazione così elevata di CO2. Allora è chiaro che avendo sconvolto in maniera così rilevante la concentrazione di CO2 dobbiamo aspettarci una risposta proporzionale e questa ci sarà con l'aumento della temperatura che è appena iniziato ma che purtroppo continuerà proprio sulla scorta del fatto che questo pallino qui non si è fermato ma ogni anno immettiamo in annosfera circa 36 miliardi di tonnellate di CO2, addirittura qualcosa in più se consideriamo la CO2 equivalente, quindi anche quella che arriva da altri processi o attraverso il metano attraverso la deforestazione e quindi aumentiamo a un tasso attuale di 3, 2, 3 parti per milione all'anno. Questo provoca l'aumento della temperatura terrestre, una sorta di febbre planetaria, i dati globali mostrano che abbiamo già guadagnato un grado nell'ultimo secolo, viviamo negli anni più caldi della storia, almeno della storia misurabile, misurabile con metodi diretti cioè i termometri ma sappiamo da altri dati proxy cioè indiretti che ormai questa anomalia termica è dell'ordine dei millenni, possiamo già anche prendere un dato interessante di queste terre proprio dell'Alto Adige che vedevamo prima con la mummia Ötzi emersa nel 1991 al ghiacciaio del Similaun che è un importante marker per l'aumento di temperatura sulla scala millenaria almeno sugli ultimi 5.000 anni, la mummia infatti è di 5.300 anni fa e non è praticamente mai emersa dal ghiaccio in questo periodo perché tutti i materiali molto degradabili di cui era anche composta non solo come mummia ma come abiti, oggi tutti esposti al museo archeologico di Bolzano, denotano che non è mai uscita se non per brevissimi periodi dal ghiaccio altrimenti si sarebbe completamente deteriorata in una fanghiglia estiva tipica di un ghiacciaio in ritiro e invece è sostanzialmente intatta, quindi possiamo dire che almeno la scala dei 5 millenni i ghiacciai attuali non sono mai stati così ridotti, la neve è importante in ambiente alpino e per i nostri fiumi perché è il capitale idrologico stagionale che poi si riversa anche nelle zone di pianura, vale per il Poma, vale per il Reno, vale per il Danubio, vale per il Rodano. Ultimamente si sono molto infittiti gli studi sulla misura della neve di cui le Alpi sono probabilmente il luogo al mondo con la maggior quantità di dati, mentre in altre catene montuose misure di spessore della neve sono estremamente rare e recenti, mentre sulle Alpi possiamo contare ormai su un buon secolo continuo di misure d'alta quota. In molte zone abbiamo fatto anche delle cartografie precise, questa è un'area importante per l'idrologia del bacino padano e l'alto bacino del fiume Toce che poi diventa Ticino passando nel lago maggiore, dove vedete una cartografia di neve che porta anche a valori dell'ordine di una decina di metri accumulati nel corso di ogni inverno, è circa 6 metri a quota 2000 e questa è ovviamente un'area molto, un'area, una grandezza molto influenzata dall'aumento della temperatura terrestre, infatti stiamo già vedendo una diminuzione non tanto delle quantità, cioè le annate con molto innevamento ci sono ancora, alternate ad altre completamente prive di neve, ma nel complesso si bilanciano. Il problema lo vediamo nella durata, l'innevamento inizia più tardi in autunno, questo è un caso assolutamente da manuale, anche per il 2018, il mese di ottobre che già vede sopra i 2000 metri di norma un innevamento di qualche decina di centimetri, quest'anno ci vede le Alpi completamente brulle e sguarnite di neve, speriamo che sul weekend arrivi la prima nevicata consistente, quindi come vedete c'è una netta diminuzione nella durata dell'innevamento della neve al suolo. Anche in pianura, questo ovviamente si vede molto di più, a Torino abbiamo la serie di misure di neve più lunga al mondo, una serie continua giornaliera dal 1788 e come potete vedere l'innevamento in pianura si è drasticamente ridotto, più che dimezzato, su una media storica dell'ordine di mezzo metro ormai siamo a 18 centimetri negli anni recenti e questo ha anche la sua parte da un punto di vista idrologico perché vuol dire che i deflussi sia della montagna ma sia della pianura stanno aumentando anche nel periodo invernale rispetto al passato, tutta neve e tutta acqua che perdiamo nei confronti dell'estate. Guardate alle zone di media quota, quota medio-bassa, siamo a 900 metri nel Cuneese, alla diga idroelettrica del lago Piastra, dove la perdita di spessore medio-annuo confrontata su due periodi, un periodo più vecchio dal 1961 al 1989 riga blu con quello più recente dal 1990 in poi, abbiamo perso ormai quasi il 40% di spessore medio della neve, questo vale anche per quote un po' più elevate, guardate qui quota 1850 metri, siamo alle falde del Monte Rosa, a Gressonei, in Valle d'Aosta, perdita soprattutto primaverile, come vedete nella prima parte del grafico non c'è una grande perdita, l'autunno non denoterebbe comunque una forte riduzione di manto, ma il calore anticipato della primavera porta a partire dall'inizio di marzo a una nettissima perdita anticipata del manto nevoso, dell'ordine di circa 15 giorni persi sulla scomparsa finale del manto, perdita circa il 30%, sorpresa oltre i 2000 metri, qui siamo in zona Valle d'Aosta, alle pendici del Cervino, diga idroelettrica del Goyer, 2500 metri e qui vedete che addirittura invece la neve aumenta, cioè le perturbazioni autunnali che sono molto cariche di umidità, calde a bassa quota danno pioggia, ma sopra i 2005 riescono ancora a produrre neve e ne producono addirittura di più rispetto al periodo storico, ma la nuova sorpresa è che nonostante un incremento della quantità di neve il caldo primaverile riesce comunque a esaurirla prima della media storica, ecco vedete che abbiamo pur sempre una settimana circa di anticipo della fusione anche ad alta quota. Belle nevicate le vediamo ancora, questo è il 2018, gennaio del 2018 proprio a Cervinia, proprio zona Lago Goyer che abbiamo visto prima, ma tutta questa neve che ha sfondato anche alcuni record oltre che alcuni tetti è scomparsa tutta molto rapidamente nel corso dell'attuale stagione 2018, lo rivediamo attraverso la stazione di Gressonei dove grazie alle snow cam possiamo oggi misurare lo spessore della neve senza operatore, la misura della neve fino a qualche anno fa era condotta a livello manuale da un operatore con costi importanti, oggi si può invece vedere dall'ufficio tranquillamente con una telecamera puntata sull'asta anivometrica, ecco qui abbiamo avuto quest'anno al 10 di marzo 176 centimetri, praticamente più del doppio della media storica a questa data, ci aspettavamo quindi una bella annata ben carica, guardate abbiamo toccato questi valori, queste sono due medie, comunque il risultato è che anche qui vedete la primavera si divora rapidamente la neve con anticipo di circa una decina di giorni. Ecco qui, questo è sempre per Gressonei, ma l'anno attuale vedete l'annata 2017-18 come strana, la neve arriva tardi, è la linea rossa, questo è il grafico dell'altezza media della neve sul lungo periodo e la linea blu sono i massimi assoluti giornalieri, la neve arriva tardi, arriva a dicembre dopo un autunno molto asciutto, a gennaio abbiamo una fortissima nevicata, quella del 9 gennaio, uno scirocco molto caldo che porterà pioggia fino a 1800 metri, quindi siamo ai limiti della pioggia qui a 1850 metri. Ci becchiamo un bel metro di neve in pochi giorni, poi abbiamo ulteriori nevicate con il massimo di inizio aprile, nonostante un massimo storico che supera addirittura un valore assoluto per la data qui, il caldo di aprile divora tutto con la bellezza di quasi una ventina di giorni di anticipo. Tutta quest'acqua ci scorre nei fiumi e non fa più riserva per l'estate. Qui siamo sul ghiacciaio Cerdonei, il nostro ghiacciaio campione, 3 metri di neve è dell'anno prima ma quest'anno si è comportato uguale, 21 maggio, 3 metri ecco come si presentava già a luglio la zona con la fusione totale della neve e anche in questo caso vediamo nel monitoraggio da Snowcam, gli anticipi via via per gli anni recenti nonostante valori molto elevati dell'innevamento invernale. Poi ci sono invece le annate di questo genere che non provocano solo problemi per il turismo invernale ma provocano poi un sacco di problemi proprio per la mancanza di fusione nivale se la primavera corre asciutta. Tutte le proiezioni per il futuro dei vari progetti di ricerca sul clima futuro ci dicono che diminuiranno le nevicate alle quote medio-basse quindi senza tagli di emissioni serra noi avremo al 2100 una pianura padana dove praticamente non nevicherà più e avremo il limite delle nevi piazzato direi insomma a quote ben al di sopra dei 1500-2000 metri, la neve sarà un fatto di altissima montagna. Anche in questo caso un altro studio che ci fa vedere la forte diminuzione della neve a bassa quota e nei mesi primaverili e autunnali, questo è uno studio francese, fa vedere praticamente la quasi totale scomparsa dell'altezza minima di neve per la pratica dello sci attorno ai 1200 metri già al 2030 vedremo sulle Alpi Marittime verso sud qui la praticamente la totale scomparsa della neve per la pratica degli sport invernali sotto i 1200 metri. D'altra parte d'estate fa sempre più caldo, serie delle temperature medie estive a Torino dal 1753 e vedete che a partire dagli anni 80-90 c'è un forte trend di aumento di temperatura, 2003 l'estate più calda della storia rimane imbattuta, 2018 la quarta estate più calda e tutte quelle che più o meno sono comprese in questo periodo sono rimaste molto più calde della media con un effetto vistosissimo non solo sulla neve ma anche sul nostro capitale a lungo termine di acqua, cioè i ghiacciai. Ecco alcune immagini di ghiacciai con una riduzione complessiva nell'ultimo secolo del 50%, abbiamo perso la metà del ghiaccio che era presente sulle Alpi all'inizio del 900, ecco un caso, 1928-2016, i piccoli ghiacciai sono addirittura estinti, questo è un piccolo ghiacciaio del bacino della Dora Riparia, Valle di Susa, sempre Dora Riparia ma siamo bacino attigo francese e qui vediamo un grande ghiacciaio a quota 3200 metri come si è devastato negli ultimi anni con l'emersione di un sacco di rocce in posto. Ecco un ghiacciaio del Monte Bianco, anche qui lo vedete nettamente ridotto con un arretramento di quasi un chilometro e la morfologia stessa che è cambiata rapidamente negli ultimi anni, un ghiacciaio di nuovo in alta osso da questo che drena in un invaso idroelettrico, anche in questo caso un regresso dell'ordine di un chilometro per ghiacciai peraltro non molto grandi e questo è il nostro ghiacciaio in Gran Paradiso, un ghiacciaio campione dove conduciamo misure specifiche di bilancio di massa da ormai una trentina d'anni, è un ghiacciaio di un chilometro quadrato, qua dei contorni vedete già l'arretramento dalle morene del 1850, si è praticamente più che dimezzato, eccolo, sta arretrando nettamente, ogni anno perdiamo circa 10-15 metri di perimetro e perdiamo circa un metro e mezzo di spessore, ci sono le paline che vengono infisse ogni anno con sonda a vapore, ecco le paline che poi emergono dal ghiaccio e ci danno la misura della perdita di spessore che è veramente imponente e ci ha portato ormai a perdere dal 1992 in media un metro e dieci, un metro e venti all'anno, nel 2017 ha perso un metro virgola quattro, nel 2018 quest'anno, non ho ancora il grafico da sostituire ma ha perso esattamente come nel 2017, di nuovo 1,4 metri, capite che sono tre metri di spessore in due stati, torna giusto la simulazione fatta dai nostri colleghi dell'Università di Friburgo che sostanzialmente ci danno la totale scomparsa del ghiaccio alpino attorno al 2050, quindi avremo, anzi attorno alla fine del secolo avremo ormai delle percentuali di superficie ridicole limitate alle alte vette sopra i 4.000 metri. Per quanto riguarda le piogge però non vediamo invece grandi differenze, è cambiata la precipitazione solida, nevosa, la precipitazione liquida complessiva in Italia, dati CNR, è abbastanza stabile, ci sono delle fluttuazioni, abbiamo perso circa il 10% rispetto alla prima metà dell'Ottocento che è stata veramente molto piovosa, ma non ci sono dei trend così vistosi, anche se il 2017 è stato l'anno più asciutto della storia in Italia, lo vedete, non ha uguali, però vediamo che cosa succederà in futuro. D'altra parte il problema grosso non è tanto la mancanza di pioggia in termini di trend a lungo termine, ma il fatto che aumentando il caldo aumenta l'evapotraspirazione e aumentano le esigenze idriche, questo è il vero segnale forte che andiamo a leggere, aumenta il rischio di incendio anche in area alpina, quindi registriamo sì degli estremi, ma il problema maggiore è proprio l'aumento della temperatura, queste ondate di caldo africano in estate sono quelle che generano la maggiore evapotraspirazione ed esigenza idrica in tutti i bacini molto utilizzati che scendono dalle Alpi, ma anche appenninici e questo genera ovviamente un deficit idrico importante, l'abbiamo visto nel 2003, l'abbiamo visto nel 2017, l'abbiamo visto quest'anno. Allora parlando di futuro, del cambiamento climatico, benché Trump dica io non credo che sia causato dall'uomo, ci crediamo invece noi che facciamo ricerca e sappiamo con una prova abbastanza schiacciante che non ci sono ormai dubbi sul fatto che l'aumento di temperatura è generato dalle emissioni di CO2, la curva nera è la realtà, i dati osservati, la curva rossa è l'insieme delle simulazioni con presenza di CO2, di fattore forzante umano, la curva blu è come si sarebbe comportata la temperatura dal 1900 a oggi, quindi dati già verificabili perché sono già avvenuti, in mancanza di CO2 antropogenica. Il risultato è che il clima normale, naturale, non si sarebbe scaldato, la linea è pressoché piatta con due bei cedimenti di raffreddamento dovute a due eruzioni vulcaniche importanti, quella del Pinatubo, l'ultima del 1991, ebbene al di là delle eruzioni vulcaniche che sono fluttuazioni naturali, noi avremmo avuto un clima sostanzialmente stabile dall'inizio del Novecento a oggi. I dati fittano bene proprio se aggiungiamo la CO2 umana, quindi è ovvio che la colpa siamo noi. Lo sappiamo da molti anni, la prima convenzione quadro sui cambiamenti climatici viene firmata nel corso della conferenza di Rio delle Nazioni Unite del 1992, da allora tante chiacchiere, pochi fatti, ci sarà il protocollo di Chioto per l'inizio a riduzione delle emissioni, ci sarà poi l'accordo di Parigi nel 2015, ma come vedete nonostante questo inquietante grafico che riguarda gli scenari del futuro, 5 gradi in più se non facciamo niente, 2 gradi in più se facciamo qualcosa, quindi questo ci dice, uno, che il danno è già fatto, spesso sento dire ma quando è il punto di non ritorno? L'abbiamo già passato da 30 anni il punto di non ritorno, il punto di non ritorno erano 350 parti per milione di CO2 che si sono già verificate attorno agli anni 80, quindi perso il primo treno ci sono treni successivi che come il mio arrivano via via più in ritardo e se aspettiamo troppo non serve più prendere dei provvedimenti perché quando si arriva a 5 gradi il malato è terminale, non serve fare altre cure, con 5 gradi l'evoluzione terrestre diventa catastrofica, è veramente uno scenario sconosciuto sul quale non abbiamo idea di come potremo adattarci. Con 2 gradi avremo ancora una buona quantità di problemi ma probabilmente gestibili, ecco perché l'accordo di Parigi dice cerchiamo di percorrere la linea blu, lo stiamo facendo? No, tant'è che pochi giorni fa c'è stato un ulteriore report dell'IPCC che ha detto stiamo perdendo la possibilità di stare in un grado e mezzo di aumento di temperatura. L'Italia è un hotspot climatico molto soggetto a cambiamenti più rilevanti di quelli del resto del globo, simulazione dei nostri colleghi del CMCC ci dicono che in nord Italia potrebbe vedere d'estate aumenti di 8 gradi che porterebbero la pianura padana alle condizioni attuali del Pakistan con ulteriore riduzione delle piogge proprio nel periodo estivo, l'estate è la stagione che vedrebbe una combinazione tra 8 gradi in più e riduzione di qualche decina di punti percentuali della pioggia. Il risultato in queste condizioni è che il Po sarebbe ridotto a un rigagnolo nel periodo estivo, cioè esaurita la fusione nivale che a questo punto andrebbe a terminare verso maggio, noi ci troveremo un giugno, luglio, agosto, settembre in condizioni dove forse chiamare il profumo e diventa un eufemismo. Infatti vedete qui che il Mediterraneo è una zona particolarmente esposta alle megassicità, alle desertificazioni, è un bacino estremamente popolato e vi lascio pensare che cosa potrebbe generare. Dall'altro lato della medaglia ci sono invece gli eventi di pioggia estrema brevi e intensi, il rischio è che proprio il clima si trasformi in questo modo. Lunghe si città che ci mettono alla sete e poi ti arriva in una giornata tutta l'acqua che doveva arrivare prima con il risultato che noi in Italia abbiamo fenomeni alluvionali di tutte le specie. Ne abbiamo avuto uno a Roma proprio l'altro ieri, un caso di urban flood, abbiamo le first flood, abbiamo i debris flow, abbiamo Genova con le alluvioni montane in piena città che praticamente sulle quali non si riesce a dare avvisi di protezione civile con dieci minuti di anticipo e quindi arrivano purtroppo i morti, abbiamo le grandi alluvioni di fiume, di bacino come può essere un alluvione di Po, insomma non ci facciamo mancare niente, manca solo l'uragano per ora nel Mediterraneo, ci sono i Medicaid che sono i primi germi di uraganetti ma questo cambia poco, a livello di un alluvione non abbiamo bisogno di un uragano, l'uragano ha anche il vento, ha anche le onde di marea ma a noi basta l'alluvione per metterci in ginocchio, Calabria pochi giorni fa e via discorrendo. Non abbiamo per ora ancora un segnale netto di aumento delle piogge intense ma anche perché ci mancano dati, le serie di dati storici sono prevalentemente a livello giornaliero, cioè 24 ore di intervallo, le serie che ci interessano sono serie sui 10 minuti, un'ora e queste arrivano dalle reti automatiche che hanno una ventina d'anni di dati buoni, quindi una parte del segnale probabilmente sta emergendo ma ancora non lo vediamo bene. Parlando di acqua c'è anche il problema dell'aumento del livello marino, nel caso di Accordo di Parigi no, più 5 gradi ci becchiamo un metro d'acqua in più, con Accordo di Parigi sì, più 2 gradi ci becchiamo comunque mezzo metro di acqua in più, questo per dire che in ogni caso il delta del Po si prende due problemi, può essere assetato durante una grossa siccità estiva e potrà essere sul lungo periodo permanentemente inondato per l'aumento del mare adriatico con una bella grana di evacuazione di persone, una bella grana di gestione delle piene perché veramente sarà una zona a rischio da abbandonare perché l'alveo del Po tenderà a aumentare di quota ma quando poi deve sfogare in mare più alto che facciamo, insomma e mi avvio gli ultimi minuti, cosa succede al nostro clima dunque? Succede che mentre i giornali e le televisioni ci parlano di pil e di spread che sono delle grandezze assolutamente astratte, influenti per la fisica del pianeta e che abbiamo inventato noi e quindi potremmo anche cambiare quando vogliamo, la termodinamica non possiamo cambiarla. Il rischio grosso che è stato già messo in evidenza da autori di autorevolezza internazionale indiscutibile, un ultimo lavoro pubblicato ad agosto sui proceeding della National Academy of Sciences che si intitola Traiettorie dell'antropocene, primo autore Will Steffen che è un collaboratore di Johan Rockström, vediamo che il clima terrestre è molto delicato, è come se corresse nella sua traiettoria su un crinale tra due vallate. Una vallata è quella delle glaciazioni e ci siamo già stati parecchie volte, almeno 8-9 volte con i cicli di Milankovic recenti. L'altra vallata non la conosciamo, non ci siamo mai stati ed è la valle dell'effetto Serra. Ora basta dare un colpetto alla biglia che è il pianeta Terra, un colpetto nella valle della glaciazione arriva con i cicli astronomici, un po' di energia solare in meno per la posizione dell'orbita terrestre, un po' di inclinazione dell'asse terrestre, questi sono cicli che conosciamo. Però vedete, poiché la valle è poco profonda, da lì si può uscire, basta un altro colpetto in senso opposto e noi siamo ritornati sul clima interglaciale che è quello che ci ha permesso di sviluppare la nostra civiltà. Adesso con le emissioni di CO2 noi abbiamo dato il colpetto, perché comunque è un colpetto da 300 a 410 parti per milione alla biglia Terra che è caduta nell'inizio del vallone dell'effetto Serra. Fra un po' c'è il burrone, eccolo qui. Quando supereremo certe soglie di CO2 che non sappiamo bene dove sono, probabilmente il raddoppio della concentrazione preindustriale, quindi attorno alle 700 ppm o 500, comunque in ogni caso ci siamo ormai molto vicini, abbiamo di sicuro superato il limite di sicurezza storico delle 350, capite che noi possiamo rischiare di cadere nel fondo di questa profondissima valle dalla quale non usciremo più, almeno su tempi di decine di migliaia di anni. Pare addirittura che nemmeno il fattore forzante astronomico della prossima glaciazione attesa fra 50.000 anni sarà in grado di spostarci, cioè darà un colpetto abbastanza forte per riemergere da quella profondissima forra. Cioè noi rischiamo di portare la terra al di fuori dei livelli di sensibilità, dei cambiamenti climatici naturali, non che dica che era bello avere una glaciazione, è chiaro, sarebbe stato un problema con cui i nostri pronipoti avrebbero dovuto confrontarsi, ma noi gliel'abbiamo tolto, dandogli nel frattempo 49.000 anni di eccesso di calura. Quindi attenzione a dare i calcetti alla nostra biglia, perché se finiamo in quel buco poi non ne usciamo più. Allarme che è stato reiterato dieci giorni fa dal nuovo report dell'IPCC, praticamente non se l'è affidato nessuno, ne abbiamo parlato noi, un altro report messo nel cassetto. Pochi trafiletti sui giornali, ma alla fine vinceva lo spread, lo spread, 300 punti, 2,98, ma chi se ne fotte dello spread? Grazie. Ultime considerazioni, questa volta tolgo il mio cappello proprio climatologico e vi do delle impressioni invece non da idrologo, quindi qua potrei invece dirvi delle banalità, sono solo così dei suggerimenti, diciamo da collega a lato, di disciplina a lato. Allora è chiaro che in un scenario di questo genere dovevo mettere da parte dell'acqua, quindi lo so che non ci piacciono i grandi invasi, lo so che generano problematiche, però punto interrogativo, cioè è la pietra nello stagno che vi butto. In questo scenario tenersi da parte dell'acqua sia per l'irrigazione, sia per uso idropotabile, sia per produzione idroelettrica, che tra l'altro essendo priva di emissioni di CO2 è una delle soluzioni per abbassare l'aumento termico del futuro, punto interrogativo, che facciamo? Nuove dighe? Non lo so, però è un tema su cui dovremmo riflettere. Intanto penso che invece non ci siano problemi a fare piccola raccolta di acqua a livello individuale, quindi avanti con le cisterne il tetto è un'ottima raccolta di acqua nei mesi in cui piove, teniamocela da conto per i mesi in cui non piove e non mettiamo così sotto stress il sistema della distribuzione. Personalmente io l'ho già realizzata, 18 metri cubi nel giardino, i miei vicini mi hanno preso per i fondelli dicendo che io buttavo i soldi sotto terra mentre loro si compravano il Porsche Cayenne e io ho detto io sono contento di averli messi sotto terra, non se ne accorge nessuno ma quando manca l'acqua, te il Porsche vai pure a farti i giri per comprare l'acqua al supermercato, io mi uso quella che ho sotto terra. Non mi basta mai, 18 metri cubi sono pochi per l'irrigazione dell'orto, del giardino, però intanto ci sono, avessi potuto farla più grande l'avrei fatta. Quindi insistere sui regolamenti edilizi per le nuove case, per le ristrutturazioni, ovunque si può costruire cisterne di accumulo. Ovviamente poi ci sono le altre cose che devono andare di pari passo per la mitigazione, transizione alle energie rinnovabili, ma insomma queste non riguardano i fiumi, ve le dico solo perché sono un tema importante del futuro, della politica del futuro. O riduciamo le emissioni o siamo sulla curva dei 5 gradi. L'hanno detto ormai anche persone autorevoli che però non sono riuscite neanche loro a bucare perché l'enciclica laudato sì di Papa Francesco che contiene quasi tutti questi stimoli è stata pubblicata nel 2015 ma anche questa è sparita dalla circolazione. Quindi il tempo ormai è vero veramente poco, lo dice anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che tra l'altro è un ingegnere e che un mese fa ha tuonato contro tutti i governi nel mondo dicendo stiamo esaurendo quel tempo ormai scarsissimo per fare ancora una virata utile, il clima cambia più veloce di quanto cambiamo noi, attenzione perché queste due righe e mezzo sono pesanti come macini, se non cambiamo niente entro il 2020 rischiamo di perdere quel sottile punto prima di cadere nel burrone, prima di andare nel cambiamento climatico irreversibile con conseguenze disastrose per le persone e per i sistemi naturali che ci sostengono. Accidenti avrei voluto vedere questo come titolo di apertura di tutti i giornali e telegiornali del mondo, niente da fare. Non ho bisogno di aggiungere altro, parla da sola, grazie per la vostra attenzione. Molte grazie davvero Luca, ci hai dato tantissimi spunti per la discussione e se ti va di rispondere a qualche domanda possiamo lasciare spazio a quesiti dalla sala. Qualcuno vuole rompere il ghiaccio? No, ce n'è pochissimo. Ecco. Fatelo del ghiaccio. Lai in fondo Marco? Buongiorno, sono Valeria Lingua, insegno all'Università di Firenze nella Facoltà di Architettura, però di solito dedico delle lezioni a questo argomento e volevo sapere che percezione ha del recepimento di queste tematiche da parte delle giovani generazioni, perché noi veniamo da generazioni che erano sensibili al tema, che hanno vissuto Rio e che quindi hanno visto, mentre adesso mi sembra sempre di parlare a giovani che sono disinteressati, lo dico anche a questi ragazzi che vedo qua seduti e che spero siano stati molto colpiti dal suo intervento. Grazie. Grazie, ottima richiesta. Io ho la fortuna di insegnare praticamente a tutte le fasce di studenti. Dalla scuola primaria, difficilissimo, ma con grandi soddisfazioni, perché questi temi non puoi fargli vedere un grafico a un bambino di sei anni, sette anni, ma gli puoi far capire certi temi all'università dove tengo il corso di sostenibilità ambientale a Torino. La mia percezione è questa. Sì, le generazioni attuali sono completamente ignare della dimensione del problema che andranno ad affrontare. Se fai la domanda a una classe qualsiasi, da un liceo all'università, e chiedi sai che cos'è l'accordo di Parigi? La stima è l'1% di risposta sì. Tutti gli altri non sanno che cosa sia. Ed è l'accordo che dirime il loro benessere o meno per il futuro. Sicuramente una volta che glielo spieghi, chiedo conferma alla platea più giovane che è qui, aprono gli occhi, si interessano, e qui però arriva un secondo problema. La totale mancanza contemporanea di capacità di aggregazione. Quindi, nonostante vengano informati di questi problemi, che a me farebbero tremare i polsi, e quindi pensando a cosa facevo io quando andavo all'università, dove non avevamo il telefonino Facebook o Twitter, ma c'era il telefono a gettoni e il ciclostile. E se proprio volevi ti mettevi in cantina a fare il foglietto ciclostilato e lo distribuivi all'ingresso all'università o in qualche altro posto della città, sperando di ottenere interesse. Ebbene, funzionava. Alla fine con quei mezzi arcaici si riuscivano a fare delle battaglie sociali, giuste, sbagliate che fossero, non entro nel merito, ma c'era la possibilità di aggregarsi e combattere per qualcosa. Oggi non c'è più. Nonostante basti aprirsi una pagina Facebook, un Instagram, un quello che volete, un Twitter, e forse se trovi già due ragazzi interessati a questo tema, e anche un po' impauriti, perché io vorrei che fossero un po' impauriti per spingerli all'azione, magari la sera sono già in cento, domani sono mille, fra un mese sono diecimila. E parlo solo degli studenti italiani. Se lo fate in inglese, probabilmente raccattate qualche milione di persone in pochi giorni. Niente da fare. Non avviene mai. Nonostante io questo appello lo reiteri continuamente in circa due o tre lezioni alla settimana da vent'anni. Non accade. E quindi la mia percezione è che manchiamo un altro tassello importante del cambiamento. La forza propulsiva proprio di quella generazione che ha due elementi per occuparsene. Uno è che sicuramente ha più forze di me, che comincia a essere stanco e non ho più voglia a 53 anni. Due, hanno anche i mezzi oggi e il diritto di chiedere alle generazioni, al comando oggi della società, di fare questi cambiamenti perché sono efficaci soltanto ora. Dopo non serviranno più. Mancando queste due opportunità lasciano purtroppo una piccolissima avanguardia culturale. Sono quelli che ci sono probabilmente come voi in questa sala. C'è una piccolissima percentuale di popolazione che io stimo non superiore, almeno in Italia, al 5%. Quindi neanche un 3 milioni per l'Italia. Di persone che pensano, che si informano, che leggono, che hanno una capacità critica di metodo scientifico. Questi sono quelli che potrebbero fare qualcosa ma spesso non sono nella stanza dei bottoni. E tutti gli altri si lasciano invece trascinare dalla valanga di, e ve lo dico con una parola, stronzate. Non è una parolaccia, è una citazione. È la citazione di Arthur Clarke, l'autore di Odissea 2001, Odissea nello spazio, che scrisse questo romanzo di fantascienza nel 1969. E disse, quanto più i mezzi di comunicazione progredivano, tanto più essi venivano usati per trasmettere stronzate. Ed è quello che sta succedendo. Luca, grazie per la tua presentazione. Giancarlo Gusmaroli, direzione tecnica CIRF. Hai detto prima, abbiamo già superato il punto di non ritorno. Quindi il cambiamento è già avvenuto, è in atto. Ed è inevitabile. Noi ci occupiamo di riqualificazione fluviale. In sostanza cerchiamo di migliorare la condizione ecologica dei corsi d'acqua. E quindi chiaramente abbiamo davanti a noi un riferimento al quale cercare di avvicinarci. In che misura il cambiamento che è già avvenuto e che sta proseguendo, sta cambiando, ha cambiato i nostri parametri di riferimento in termini ecologici. Tu hai parlato di rischi, disagi sociali, eccetera. In termini di riferimenti ecologici. Beh, ha cambiato molte cose. Adesso io qui vi cito solo degli esempi perché non è il mio mestiere, è quello dei colleghi più biologi, zoologi, entomologi. Però sappiamo che questo grado in più, che in Italia e sulle Alpi è un buon grado e mezzo, perché noi siamo più sensibili della media globale, ha già prodotto, oltre agli scenari che avete visto con le fotografie degli acciai, conseguente migrazione di una quantità enorme di specie ormai etichettate o come specie aliene, nel senso che arrivano proprio da areali completamente differenti dal nostro. Pensate alla zanzara tigre, che è un regalo del Vietnam arrivata via cargo a Genova nel 1991 e che per l'estati caldo ormai ha colonizzato tutto il bacino del Mediterraneo con problemi sanitari importanti, in quanto abbiamo la diffusione di quattro malattie tropicali che in Italia non c'erano. Parliamo di vegetali, abbiamo la migrazione di specie ovviamente da climi freddi che stanno salendo di quota e la conquista di specie mediterranee e di interi areali alpini. Un esempio, ormai la fascia del castagno e del Frassino viene minacciata dall'ailanto. Castagno e Frassino patiscono moltissimo queste estati secche, per non parlare del faggio. Due o tre annate come il 2003 o come il 2017, se fossero consecutive, sterminerebbero probabilmente un pezzo di patrimonio forestale italiano. Basterebbero tre o quattro anni. Fortunatamente per ora ne abbiamo sempre avuto una con interruzione, poi piove, il danno viene in parte riparato. Ma io penso che basterebbero tre anni di seguito e sterminiamo il bosco di latifoglie delle zone piovose, prealpine. A quel punto arrivano altre specie e dopo il cambiamento è irreversibile. Cambiando le coperture vegetali cambia tutta la gestione anche dei bacini da un punto di vista idrologico, questo sicuramente. Quindi da un lato dico usiamo i dati del passato perché sono l'unico riferimento, ma con questi ricordiamoci che guardiamo nello specchietto retrovisore. Se vogliamo guardare davanti prendete anche i modelli e sulla base dei dati del passato aggiungete un tot, una percentuale, un grado in più, un fattore moltiplicativo in base agli scenari che vi ho fatto vedere. Perché dovete progettare con lo sguardo sulla carta, neanche dal parabrezza perché non lo vedete ancora. Poiché lavorare sui fiumi abbiamo visto a tempi lunghi, a tempi dell'ordine dei 50 anni, almeno speriamo, del secolo o più, oggi bisogna già progettare per il clima del 2100. Aggiungo una brevissima considerazione su questo, visto che una delle motivazioni dei Paesi membri per ritardare l'attuazione della direttiva quadro è anche legata alle incertezze, legate ai riferimenti che in un tema molto caldo. In questi giorni noi crediamo che l'approccio che cerchiamo di portare avanti, quindi di assicurare dinamiche, anche idromorfologiche, il più possibile libere ai corsi d'acqua ci aiuti in questo senso ad adattare la nostra gestione, perché focalizzarsi su obiettivi legati alle specie diventa complicato, proprio perché il concetto di esotico comincia ad essere un po' labile in certi contesti. E magari le specie che scegli potrebbero essere molto penalizzate, quindi non riuscire a tenere il passo con quello che… Anche la gestione per siti molto delimitati, un approccio conservativo, classico, è complesso perché… E poi interessa invece a me il vostro parere sul problema degli invasi, perché questo è un punto dove io mi trovo a metà tra due comunità, quelli dei progettisti, degli urbanisti, degli ingegneri e dall'altra quella degli idrologi o comunque chi si occupa più degli assetti di riqualificazione. Che fare? Hai toccato un nervo molto scoperto, infatti giusto questa mattina c'erano associazioni che volantinavano davanti all'ingresso proprio per ricordarci questa criticità. Allora io dico il mio parere ma poi lascio spazio alla sala, sicuramente ci sono molte opinioni su questo. Io credo che in questo momento noi stiamo finanziando in Italia non il recupero di capacità di invaso, ma migliaia di piccoli impianti senza alcuna capacità di regolazione delle portate e di accumulo che stanno danneggiando gli ultimi corsi d'acqua in buone condizioni senza dare alcunché in merito alla necessità di tenere acqua che tu sottolineavi. Abbiamo serbatoi montani con un elevatissimo livello di interrimento per cui ancora si vedono pochissime misure di gestione adeguata e per cui serve sicuramente un piano di quel tipo. Ieri abbiamo discusso con il mondo agricolo di interventi di infiltrazione di acqua in falda, di ricarica artificiale della falda che è un modo alternativo di tenersi l'acqua, soprattutto quando la falda non è inquinata in maniera irreversibile, tenersi l'acqua maggiormente in falda è un modo diverso, quindi tu hai meno problemi di vapotraspirazione, certo servirà un mix di soluzioni, certo costruire nuovi invasi è in conflitto con lo stato ecologico, forse trovando soluzioni più diversificate e gestendo meglio i volumi che abbiamo possiamo fare qualcosa di buono, ma lascio anche ad altri qualche commento in più su questo tema per noi molto molto caldo. L'idroelettrico lo guardo da un punto di vista economico, concordo con quello che diceva Andrea Goltara, il grande idroelettrico che è stato costruito nei posti dove economicamente valeva, adesso ha bisogno di un revamping, di essere rimesso a posto, gli interimenti, macchine, il mio bisogno ha progettato una delle prime centrali idroelettriche fino a 800, quindi alcune macchine sono vecchie, dei tecnici idroelettrici dicono che le grandi impianti se venissero rifatti, riammodernati si guadagnerebbe il 15% di produzione, quante piccole centraline? Io ho fatto alcuni calcoli su centraline, sul piano economico finanziario di centraline, secondo me dai miei conti, un po' spannometrici per i minimi, sotto i 650 kilowatt di potenza nominale, che quindi vuol dire il megawatt delle statistiche, non stanno in piedi finanziariamente, ovviamente se gestito con delle logiche pubbliche, ovvero che devi produrre per 30 anni, hai la concessione per 30 anni, e tutto. Attualmente la media è di 500 kilowatt, la media degli impianti finanziati negli ultimi tre anni è scesa, prima era un megawatt, adesso è a 500 kilowatt. Quindi bisognava spostare gli incentivi sui grandi, però lo si dà a 4 aziende. Sì, te l'ho. Ok. Invece per l'uso agricolo e per l'uso idropotabile, non in vasi in linea, ma in vasi in derivazione laterali, da immagazzinare acqua nel periodo primaverile e per poi usarlo nel periodo siccitoso, ad esempio giuno luglio. Nel Trebbia ad esempio ci sono tanti piccoli laghi, ex cave, la sommatoria del volume d'invaso di tutti questi è stata stimata sui 18 milioni di metri cubi, che potrebbero benissimo arricchire i canali di bonifica, soprattutto in sponda destra, ma anche in sponda sinistra, e dare anche acqua nel periodo più siccitoso, ad esempio nello stirone, stessa cosa nel nostro torrente o fiume Taro. Quindi laddove si può invasi in derivazione. Sono tanti piccoli poi ecosistemi, tanti piccoli biotopi, molto importanti anche per la conservazione di specie endemiche tipiche del nostro territorio, sia faunistico che... buongiorno a tutti, io sono quella che ha dato il volantino stamattina e il tema su cui noi riflettiamo da anni è un po' questo, cioè tutte queste piccole opere dannose, si sente? Per arrivare a delle produzioni che non incidono, abbiamo fatto un conto che se facciamo un viaggio aereo intercontinentale, praticamente una centralina copre il fabbisogno di un paio di viaggi a New York in un anno, qui ho le emissioni corrispondenti, quindi continuiamo a fare questi impianti che danneggiano il territorio e i fiumi, quel poco che ci resta, però nessuno si preoccupa di un viaggio in meno e questo secondo me è un tema fondamentale perché altrimenti continuiamo a cercare di riempire il mare con il cucchiaio e questo io lo dico anche un po' diciamo in modo prevenuto e non scientifico sul tema degli invasi, dei piccoli invasi, cioè secondo me c'è il pericolo che questo sia l'operazione centralina e due, cioè facciamo tutti questi buchi, riempiamo di acqua ma se non troviamo il sistema di consumare decisamente meno saranno delle cose inutili. Questo è la posizione della nostra associazione. Grazie Lucia. Ci stanno ancora due o tre domande. Sì, no, riguardo gli usi intorno alla regione della Romagna, impianti di depurazione manca sale 5 milioni e 500 mila metri cubi in una stagione in rigua. L'impianto Ider di Bologna fa circa un milione, fa circa 12 milioni di metri cubi volendole riutilizzare. Qui diciamo acqua ne abbiamo dove trovarla per sostituire eventualmente per gli usi diciamo meno pregiati, no, ma comunque per certi determinati usi abbiamo dove andarla a cercare. Ci vorrebbe semplicemente la buona volontà di mettersi in pista a farlo perché comunque non sempre quell'acqua è disponibile a caduta, qualche volta la devi comunque pompare, ma noi che in pianura padana, soprattutto in regione Emilia Romagna, pompiamo acqua dal po' per gran parte, per irrigare gran parte della pianura, insomma non è che ci spaventerebbe mettere giù qualche sistema di pompaggio in più per portare l'acqua dagli impianti o dove serve, insomma per dirla come va detta. È chiaro, i piccoli impianti idroelettrici dal punto di vista dell'ottica di pianificazione per la tutela dei corsi d'acqua sono devastanti, l'abbiamo visto negli anni, comunque ci stanno creando più problemi che non benefici. probabilmente forse fare un ragionamento su qualche grande invaso in più rispetto a tanti piccoli microinvasi si potrebbe anche provare a prenderlo in considerazione. Questa è un'opinione molto personale, però mettendo sul piatto del bilancio forse il ragionamento è fattibile perché è vero quello che diceva Alessandro De Carli prima riguardo alla sostenibilità finanziaria degli impianti. Le chiedevo però una domanda, le volevo porre una domanda così perché è un elemento di interesse. Produzione di CO2 antropogenica, combustibili fossili, un accenno veloce, picco del petrolio, cambiamento climatico, che è un altro argomento che suscita sempre molta discussione nell'ambiente sia scientifico che non. Il petrolio convenzionale è avvenuto probabilmente attorno al 2005, non ce ne siamo quasi accorti se non forse con la crisi del 2008, la crisi finanziaria, con il prezzo del barile che pochi giorni prima era arrivato a quasi 150 dollari. Però il petrolio ce n'è ancora tanto nel sottosuolo, è un petrolio diverso, è un petrolio più difficile da estrarre, è il famoso petrolio del fracking, delle sabbie bituminose. Grazie alla montagna di denaro che si è messa da parte con il prezzo a 150 dollari al barile, negli anni successivi è stato investito portando in produzione campi petroliferi che fino a pochi anni prima non avremmo mai considerato. Questa è la prima risposta al fatto che si sta esaurendo il petrolio facile, quello che fa il buco per terra e viene su quasi da solo, ormai c'è in pochi paesi del mondo, l'Arabia, ancora più grande giacimento mondiale di quel tipo di petrolio lì, destinato però ad esaurirsi nei prossimi decenni. Allora in questo momento quindi siamo in una situazione dove probabilmente gli aspetti finanziari decideranno molto se riusciremo a mantenere convenienza a estrarre dei petroli sempre più difficili, che costeranno sempre di più e daranno un ritorno energetico inferiore, il famoso ERO-EI, Energy Return on Energy Invested. Negli anni 30 uno a cento, investivo un barile in perforazione e ottenevo cento barili da usare. Oggi siamo uno a quindici, nonostante l'enormità del progresso tecnologico. Domani uno a cinque. Allora è chiaro che il petrolio aumenterà di prezzo e ce ne sarà meno. Attenzione al carbone, che invece è più facile da stare, ce n'è una valanga molto di più del petrolio. Attenzione comunque al gas, che è pur sempre combustibile fossile. Quindi sicuramente ci saranno sconvolgimenti da un punto di vista della produzione, sicuramente ci saranno delle crisi energetiche, però io temo che di fossile ce ne sia comunque ancora abbastanza da raggiungere i picchi di CO2 che ci preoccupano. Ecco perché da un lato bisogna fare questa transizione energetica per il clima, automaticamente ci prepara anche per le scarsità fisiche e energetiche, ma soprattutto ci dovrebbe mettere al riparo da usare, soprattutto il carbone e i petrolio peggiori da sabbie bituminose. Quindi il picco è lì, ma ci sono tanti picchi. Il picco del petrolio pregiato convenzionale è già avvenuto, gli altri arriveranno via via, ma probabilmente resteremo senza combustibili fossili quando il danno climatico è già irreversibile. Spazio per un'ultima domanda. Giuliano Trentini, Cirfa. Che valutazioni ci sono rispetto a come il cambiamento climatico impatterà sui suoli? Anche rispetto alla domanda, alla provocazione sui bacini di accumulo. Io penso che i suoli italiani, non solo che italiani, sono stati immassati, abbiamo percentuali di sostanza organica ridicole, al limite delle desertificazioni, che di per sé è una fonte diretta di CO2. Se noi anziché investire in costruire i bacini di accumulo aumentassimo di uno o due punti percentuali di sostanza organica nei suoli agricoli italiani, uno, quanta maggior produttività avremo agricola? Due, quanta migliore capacità idrica dei suoli che ci permette di abbreviare la stagione idrica? Tre, quanta più acqua infiltrata nei suoli che vado ad alimentare la falda? Quella del bacino a me pare la classica, io sono un ingegnere, mi pare la classica risposta monofunzionale dell'ingegnere, lì sappiamo cos'è, investiamo dei soldi perché quell'altra è troppo difficile e nessuno si mette a farla, ma quell'altra è la soluzione vera, non costruire altri invasi. E' interessante perché questo pone il tema della complessità e di come le scelte oggi vanno fatte in maniera multidisciplinare con tantissima riflessione tra colleghi di discipline diverse. Sicuramente i suoli oggi stanno patendo molto di questa evoluzione, più fa caldo, più comunque la sostanza organica verrà consumata rapidamente, è vero che possiamo investire moltissimo per reintegrarla, è vero che tra l'altro ne avremo anche vantaggi per altri aspetti dell'agricoltura, quindi sicuramente sono pratiche che dovranno diffondersi, però non ho numeri da darvi e forse non ci sono neanche perché ci sono pochissimi studi su singole zone, quindi il problema dei suoli e combinazione clima-suoli-acqua è estremamente variabile sul piano geografico, quindi uno studio di una zona non è detto che lo puoi esportare su un'altra, però il tema che vorrei portarvi è quello che di fronte a una grossa siccità con temperature sopra i 40 gradi siamo di fronte a qualcosa di mai visto e sicuramente avere un po' più di sostanza organica dà una mano, ma dimentichiamoci che da sola possa affrontare tre mesi di caldo e di secco, cioè niente, desertifichi e basta, forse sarà più importante decidere che cosa coltivare a quel punto, cioè non accanirsi e volere a tutti i costi coltivare il mais quando non ci saranno più le condizioni e vorrà dire che sceglieremo delle essenze vegetali con minori esigenze idriche e altre cose, questo sarà l'evoluzione dell'agricoltura, abbandonando ciò che ha troppe esigenze idriche, ma temo che comunque la questione di emettere da parte almeno l'acqua per uso idropotabile sarà importante ugualmente. Mi sembra che comunque le idee che sono emerse prima siano molto convergenti con quello che anch'io porto avanti in un'altra comunità, quella lì, meglio un grande impianto ben fatto che 10.000 piccoli impianti che vanno a snaturalizzare tante aree. Bene, ringrazio moltissimo Luca Mercalli per questa chiacchierata con noi.